Bene, la prima cosa da fare sarà digitare sul vostro browser di riferimento la parola iNaturalist e accedere così al sito web. Cliccando su Registrati ci verranno richieste tutte le informazioni e-mail, nome utente, password per registrarsi al sito. Sarà anche possibile registrarsi con Facebook o con Google. Noi abbiamo già a disposizione queste informazioni, quindi clicchiamo su Accedi. Una volta che si sarà aperta la nostra pagina principale, clicchiamo su Comunità dal menu in alto e poi su Progetti. Nella barra di ricerca, digitare il nome del nostro progetto Click, Chiocciole e Lumache in città e selezionarlo. Bene, ecco la pagina principale del nostro progetto Click. Cliccare sul menu in alto a destra su Unisciti a questo progetto. Dopo aver letto e accettato le poche e semplici regole che caratterizzano il nostro progetto, cliccare su Sì, voglio partecipare. Bene, adesso che siamo membri del progetto Click, Chiocciole e Lumache in città, possiamo iniziare a caricare attivamente le nostre osservazioni. Clicchiamo su Aggiungi osservazioni. Dalla schermata che si aprirà, in alto a destra, clicchiamo su Aggiungi da foto. Se la foto è stata scattata da un cellulare con l'opzione Geolocalizzazione attiva, avrà già al suo interno tutte le informazioni riguardo a metadati, quindi data, luogo e orario di osservazione. Se non sappiamo cosa abbiamo fotografato, possiamo lasciarci suggerire dall'algoritmo di iNaturalist. A questo punto manca un passo importantissimo, quello cioè di selezionare Progetti e lì, al loro interno, selezionare il progetto Click. In questo modo le nostre osservazioni potranno essere registrate correttamente nel progetto. Cliccare poi su Invia un'osservazione, attendere il salvataggio ed ecco fatto, l'osservazione è stata correttamente registrata. Dallo smartphone aprire l'app iNaturalist. In basso, selezionare Altro, Progetti, scorrere in basso la tendina e nella barra di ricerca digitare Click Chioccele Lumate in città. A questo punto, cliccare su Unisciti per diventare membri del progetto Click. Torniamo alla schermata principale, clicchiamo sull'icona della macchina fotografica Osserva, possiamo scattare una nuova foto oppure selezionare una che abbiamo già fatto. Anche in questo caso sarà fondamentale cliccare su Progetti e switchare il progetto di riferimento Click Chioccele Lumate in città. In questo modo la nostra osservazione sarà caricata e registrata correttamente. in questo caso la nostra osservazione è liberata a cura di riferimento per diventare entendo e